Alla vigilia del big match di questo weekend Pasquale Ferraro deve ancora una volta rinunciare al bomber Diego Zerillo per problemi fisici. L'unico dubbio avuto fino alla rifinitura è proprio questo. Per il resto la formazione dovrebbe essere confermata per dieci undicesimi con il solito 4-3-3 composta da De Luca tra i pali, Cioffi, Sagginario, Pepe e Liguoro in difesa, a centrocampo con la Russo, Spasiano e Greco ed in attacco al fianco del bomber Befi giocheranno Russo Lillo e il giovane El Sad. Il Santo Maso invece riconfermerà lo stesso undici che ha pareggiato in casa contro il Picciola. Olivieri tra i pali, difesa 4 composta da Del Sorbo, Schioppa, Squitieri e Mallozzi, a centrocampo il solito trio composto da Pingue, Inserra e Iennaco, in attacco come terminale offensivo ci sarà Balzano e dal suo fianco Ripoli e Siciliano. Il suo rovra di Ciccio Messina sarà ospite del San Vito Positano, confermatissimo del grande al centro dell'attacco dopo il gol sul calcio di rigore nella scorsa giornata. Sarà 4-3-3 anche per i conciari con in porta Gabrielli, difesa 4 con Arceo, Izzo, Troisi ed Appianese, a centrocampo a Vallone, Rigore e Marra ed in attacco Russo Manno del grande Errapolo.